Pasquale Saurino, spesso pescatori sotto accusa perché il mare è sporco, però possiamo dire che i pescatori hanno una loro coscienza molto importante? Sì, i pescatori ce l'hanno e lo stanno dimostrando anche adesso con l'aiuto dell'area marina protetta a far sì che i rifiuti vengano portati a terra. Questo prima non succedeva perché le amministrazioni rispettavano la legge perché erano rifiuti speciali, la paura di prendere un verbale, qualcosa, li ributtavano a mare. Adesso finalmente è arrivato questo decreto che dà la possibilità ai rifiuti di mare di poterli portare a terra e questa è una cosa molto importante. Quantitativi importanti ritornano a terra? Sì, molto. Capita più spesso dopo il cattivo tempo, quando si muove le correnti sono un po' più forti, però i quantitativi crescono, diciamo che prima era molto di più, adesso stanno calando piano piano. In area marina protetta il problema grosso sono le nasse, ne stiamo contando parecchie. Perfetti pesca anche illegale, abusiva? Sì, come in tutte le parti la pesca illegale colpisce quasi l'intero territorio nazionale, per cui ci dovrebbero essere delle regole, delle leggi, delle normative un po' più restrittive e anche dei controlli un po' più efficaci. Scuole, possiamo dire che d'estate i controlli forse ci sono, il periodo invernale è più difficile? Diciamo che il periodo invernale sì, è più difficile, un po' la giornata è più corta. Meno controlli a mare? Meno controlli a mare, ma se ci fosse un coordinamento tra le forze dell'ordine durante le giornate forse ci sarebbe ancora meglio. Il mare sarà più pulito? Il mare di domani? Sarà più pulito se abbiamo la coscienza di pulirlo. Noi siamo i primi attori come pescatori, ma poi dipende dalle amministrazioni e da altri enti. Grazie a tutti.